Ciao a tutti, eccoci qua finalmente con i 10 trucchetti per la scuola, un video che mi avete richiesto in tantissime quindi mettete tanti pollici in su se aspettavate questo video e se in generale vi piacciono i video trucchetti commentate dicendomi quali altri trucchetti vorreste vedere sul mio canale ma andiamo subito a vedere quali sono questi 10 hacks per la scuola allora il primo consiglio che vi do per studiare, per ottenere dei buoni risultati è quello di studiare in un luogo tranquillo, createvi anche se in una scrivania che però sia ordinata perché studiare in un luogo caotico o con diciamo troppe distrazioni vi rallenterà sicuramente lo studio un trucchetto utilissimo per memorizzare i concetti che avete studiato e saperli esporre bene durante un'interrogazione o un esame è quello di parlare ad altavoce, di spiegare come a un pubblico immaginario quello che avete studiato questo è utilissimo per sapere esporre bene i concetti poi davanti al professore ma soprattutto vi aiuta anche a memorizzare perché se immaginate di spiegare quello che avete studiato a qualcun altro il concetto diverrà più chiaro anche a voi nella vostra testa studi scientifici hanno rilevato che l'orario migliore per memorizzare le cose e studiare è dalle 16 alle 18 quindi se avete un'interrogazione, una verifica, un esame tenete presente questa cosa e cercate di studiare in questa fascia oraria le cose più importanti un'altra cosa che sicuramente può facilitarvi la vita scolastica è l'avere una pochette d'emergenza con dentro alcune cosine che possono servirci durante le ore scolastiche e dipende dall'età che avete ovviamente potete creare la vostra pochette in base alle vostre esigenze però diciamo alcuni consigli, alcuni spunti che vi do possono essere sicuramente avere con voi sempre un assorbente per momenti panico se siete donne ovviamente poi dei cerotti perché può capitare sempre di tagliarsi, emergenze varie degli elastici e poi nella mia ho messo anche diciamo alcune cose beauty le mini size che trovate magari nei giornali o quando andate in profumeria e tenetele da parte così le potete mettere nella vostra pochette emergenza e magari se dopo scuola non andate direttamente a casa può essere utile avrete visto che nella pochette d'emergenza c'era anche un campioncino di profumo e questo può essere utile per un altro trucchetto perché secondo alcuni studi pare che se sentiamo lo stesso profumo mentre studiamo e poi risentiamo lo stesso profumo durante l'interrogazione o la verifica il nostro cervello automaticamente ricollega questa informazione e dovrebbe farci venire in mente più facilmente quello che abbiamo studiato io sinceramente questo trucchetto non l'ho mai provato su di me perché non lo conoscevo quando andavo a scuola però fatemi sapere se lo provate e se funziona un'altra cosa importantissima è quella di non avere sempre il telefono a portata di mano questo perché è ovviamente con whatsapp, le notifiche, facebook, instagram avere distrazioni è facilissimo quindi vi consiglio di sostituire il telefono almeno quando studiate con una bella tazza di tè che almeno vi dà un po' di carica vi è mai capitato di tirare fuori mille quaderni dallo zaino prima di trovare quello giusto? un trucchetto facilissimo, semplicissimo, che potete fare in due secondi è quello di colorare il bordo superiore del quaderno con colori diversi in questo modo quando lo vedrete dall'alto nello zaino capirete subito che quello verde magari è di matematica quello rosa è di inglese e le pagine non si colorano perché è solo nella parte superiore quindi quando aprite il quaderno poi non si vede nulla però è molto utile le cerniere a volte possono essere un po' fastidiose può capitare che si blocchi la cerniera dell'astuccio la cerniera della felpa, del giubbino a me era capitato una volta a scuola e ho dovuto praticamente togliere il giubbino dai piedi quindi può essere anche abbastanza fastidioso, imbarazzante questa cosa quindi un trucchetto è quello di passare la matita la graffite diciamo e rende la cerniera scorrevole quindi se passate la matita sulla cerniera dovrebbe rendere la cerniera molto più scorrevole quindi assolutamente da provare in caso di blocco cerniera non so voi ma a me è capitato un sacco di volte quando andavo a scuola che mi scoppiasse la penna tra le mani niente paura perché ho provato per voi questo trucchetto e funziona ho rotto una penna apposta per vedere se funzionava basta usare un batuffolo di cotone o diciamo un dischetto di cotone con l'olio d'oliva e l'inchiostro magicamente sparisce funziona al 100, 100, 100, 100, 200 mila per cento quindi assolutamente per l'inchiostro olio d'oliva e va via subito e non dimenticatevi che anche internet può essere un valido alleato allo studio su youtube ormai ci sono un sacco di video inerenti a un sacco di argomenti da scienza, matematica, inglese e questo può essere molto utile per fissare determinati concetti nella mente che magari non abbiamo ben capito e quindi usiamo youtube anche per questo oppure ci sono molti film che possiamo vedere la sera per rilassarci film storici, film di letteratura ormai ne fanno tantissimi quindi potete approfondire anche in questa maniera e ovviamente trovate anche un sacco di esercizi online per allenarvi magari per una verifica ecco, spero tanto che questi 10 trucchetti per la scuola vi saranno utili mettete tanti pollici in su se vi piacciono i video trucchetti e fatemi sapere nei commenti qual è il trucchetto che vi è piaciuto di più e che magari userete vi mando un super bacio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video ah, vi lascio qui anche gli altri video trucchetti che ho fatto se ve li siete persi così potete andarle a vedere, ciao!